Il Carnevale avrà il suo film così da valorizzare un patrimonio straordinario. Il Sindaco annuncia questa novità cinematografica che punta ai riflettori sulla tradizione del Carnevale a cura di Andrea Lodovichetti. Come spiega l'assessore Etienne Lucarelli che in questi anni sta lavorando per un progetto di valorizzazione identitaria del Carnevale di Fano, che comprende il percorso con i Carnevali storici italiani UNESCO nel quale Fano è capofila, questa iniziativa è di grande valore perché permette di raccontare in modo identitario e viscerale nel tema della fanesitudine il Carnevale di Fano in tutto il mondo e inoltre è uno strumento importante in visione dell'ottenimento della candidatura al patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Vi posso raccontare l'orgoglio con il quale ci stiamo approcciando a questo nuovo lavoro, un lavoro che tratterà di un elemento fortemente identitario della città di Fano, ossia il Carnevale e quindi siamo in procinto ufficiale di imbarcarci dopo Pesca Mare in questo nuovo viaggio che faremo insieme alla comunità fanese e insieme ad un traghettatore d'eccezione che sarà El Voulon ovviamente e quindi immergendoci prima noi come autori poi con tutti coloro che fruiranno il film in questa atmosfera meravigliosa che è quella del Carnevale e parlo al plurale ovviamente perché ci tengo a ribadire con grande orgoglio che tutto lo staff di questo film o la quasi totalità dello staff di questo film è costituito da fanesi, quindi ancora di più ognuno di noi metterà rispetto al proprio ruolo nel film qualcosa di sé e di fanesi, insomma le nostre radici, il nostro orgoglio, la nostra identità. Per quando è prevista l'uscita? Confidiamo entro la fine dell'estate. Quanto è importante un film del genere per il Carnevale fanese? Ovviamente massima importanza perché è veramente un film, cosa che non è mai stata fatta questo significa che lo sguardo verso il fuori, non rimanere nel nostro piccolo è entrato ormai nel mood di Fano, degli amministratori, dei fanesi, di tutti noi, quindi portiamo Fano nel mondo, quindi ottimo questo risultato e con la possibilità anche insomma del governo ci ha dato di attingere dei fondi che prima non avevamo. Un altro film caratteristico su Fano che girerà tutto il mondo? Ne siamo convinti perché andiamo a raccontare una storia importante che è legata alla nostra cultura, alle nostre tradizioni e parliamo del Carnevale più antico al mondo che risale al 1347. Abbiamo già questa esperienza con Pesca Mare che è stato qualcosa di straordinario ma il valore straordinario è quello di tramandare tutta una serie di notizie, di informazioni, di elementi che anche rischerebbero di essere, di disperdersi, anche testimonianze che possono tramandarsi da persona a persona e quindi sarà un lavoro importante che legherà la storia del Carnevale di Fano ma poi la trasferirà nel mondo. Fra l'altro si inserisce anche in un percorso che stiamo facendo di riconoscimento di bene immateriale dell'UNESCO come Carnevale insieme a D'Anna.